C'era nel questore i rappresentanti dell'azienda sanitaria provinciale dell'IMS e il rappresentante dell'S4 alla riunione svoltasi lo scorso 7 luglio, un incontro preseduto dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia per una verifica sull'erogazione dei servizi nel centro governativo polifunzionale di Contrada Pian del Lago. Il prefetto ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi erogati presso il locale centro per migranti, si legge nella nota, invitando espressamente l'ente gestore a dare esecuzione al contratto di appalto e ai relativi atti aggiuntivi, con particolare riguardo alle unità di personale da impiegare in misura proporzionale al numero di stranieri, si sottolinea ancora, complessivamente presenti nella struttura e ha fatto riferimento anche alla prioritaria esigenza di garantire l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei loro confronti. Assicurata da parte del rappresentante dell'ASP la piena attuazione in merito al CPR della convenzione stipulata con la Prefettura per l'esecuzione di tutti gli assortamenti clinici necessari da parte del personale medico in servizio. È stata anche affrontata la questione relativa ai lavoratori che hanno protestato nei giorni scorsi a causa del ritardo nel pagamento delle mensilità. A tal proposito, il prefetto Chiara Armeni ha reso noto il proprio intendimento di avviare, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, si precisa ancora, ogni utile iniziativa per la corresponsione delle retribuzioni nette in capo ai singoli lavoratori.